Salve a tutti i Pokémellari, sono Falco e ho un paio di cose da dirvi. Innanzitutto abbiamo deciso di espandere il canale e non trattare più di Pokémon, ma portare anche tematiche videoludiche che ci stanno particolarmente a cuore. Ovviamente non preoccupatevi perché non lasceremo per nulla il brand Pokémon e sarà sempre ai nostri pensieri. Per inaugurare la nostra nuovissima rubrica che si chiamerà appunto Gamesclero, che sarà appunto la porta bandiera per il nuovo volto del canale, abbiamo qui oggi ragazzi un ospite, ma un ospite veramente d'eccezione, abbiamo il sovrano, e non sto scherzando, di YouTube, il nostro caro, simpaticissimo, RediPixel. Ma dire ospite è dire tanto, perché mi sento più un prigioniero diciamo, quindi prima mi lasciate andare meglio. Ok, comunque io vorrei ancora rinnovarti i ringraziamenti per la tua presenza sul nostro canale, ovviamente vorrei ringraziarti per la nostra presenza sul tuo canale, perché sì ragazzi, in contemporanea a questo video ci sarà un video sul canale di RediPixel in cui noi saremo presenti, grazie ancora e non sappiamo veramente come ringraziarti. Ma vai, non c'è problema, non c'è problema. Perfetto, allora quindi, l'ospite d'onore c'è, i nostri soliti compagni di viaggio ci sono, la grafica nuova c'è, e quindi sigla! Ah, cappello, classico. Dai, dai, bellissimo. Ma chi è, Vin Diesel? Sì, sì, è. Vin Diesel dei poveri. Vin Diesel che gioca a caffè, è bellissimo. Ecco, lo si sta incassando tanto per cambiare. All'asta proprio! Qualcosa dice che ci è rimasto male? Ma che stiamo aggiando adesso? Gelato, non uscala. Il rimedio per tutti i mali. Oddio. Mamma, sto gioco. Questo l'ho odio. E ti cover it. Oddio. Questa è la bestemmia fatta gioco, proprio. Ma è la vento. Beh, però è una ragazza, lei sarà delicata. Ci spero. Vabbè, sono abbastanza calma, dai. Ok, ritiro quanto detto. Ha detto scimotte ciccio. Scimotte ciccio è una brutta parola, secondo me. Poverito. È bruttissimo. Quello è irlandese di sicuro. Dici? Barbaro. Forza. Dalla parola. È un texano questo qua. Ecco. Sì, americano sicuro. Sì, sì, sì. Ancora sto parlando, guardano. Questo gioco è effettivamente il male. È il male in tutti i sensi. Però è bellissimo. Capolavoro. Però non ho spiando. Non ho spaccato ancora niente. Non ho spaccato niente. Non ho spaccato niente. È stato relativamente calmo. Ma è questo? Non lo so, però è bellissimo. Oh, ma no. Boom. Mamma mia. Per un attimo ha superato la barriera del suono. Ecco. Sì, ma quella tastiera non la vedo bene, quella tastiera, cavolo, infatti. Sì, ma hanno dei problemi questi, eh. Ma non è così. Ok, questo non è normale. Ricomeratelo. Ecco. Eccolo, ecco. Il gioco io so giocarlo pure molto bene. Vani entra alle mosche. Oh, ma... Ma... Si autofunisce. Bellissimo. Mamma mia. Era il demonio. Oh, no. Il classico bambino. Ma cosa? Ma chi è? Dread? Identico. Ma che cos'è una trasformazione? Revolve. Oh, ma... Guardate le doti di montaggio, bellissime. Eccolo qui, Dark Souls. Dark Souls ci sta, come... Ci sta tutto. Clero, ma non... Diciamo... È relativamente calmo. Quanto è bello questa boss. Questa boss fight è un'area più bella di tutto il gioco, secondo me. Accorgo del tizio solo adesso. Sembra... Come in Balsamato, lì. Eccolo. Creed si incassa. È la compilation del manicolo. Eh, vabbè, dai. Un'altra volta questo. Ecco. La concentrazione, ragazzi. Mamma mia. Zen. Sì. Ah, eccolo. Mamma mia, sto male per lui. Ah... E faccio... Ho sentito un urlo. Sì, sì. No, no, era un'impressione. Mi vado fuori. Non ha urlato, no? No, no. Eccolo. Oh, ma... Ehi, ciao. Secondo me devi essere una lì. No. Ma la parete titola perché c'è un burro? Eh, secondo me è recidivo, ragazzo. Non... Addio vita sociale così, eh? E' vero un mostro, che è una bestia. Eccolo. Ho capito. Eccolo. No, no, no. No, no. Abbiamo scoperto il perché. Cioè, il muro è fatto di cartone e lui ci lancia contro il motor. Ma quanto c'è risparmiato la uva? Ma dai. Si, ma deve avere un monitor con i controcoglioni. Effettivamente. E' fatto di carbonio per rompere un muro. Oppure lui che... Eccolo. C'è riprodito un'adamante. E' un muro che sei tu, eh? E' importante in questo caso. E' presa con la cazzo. Madonna. Ancora. Adesso tocca l'altra cazzo. Non sapele. Certo. Eccolo, va avanti. Madonna, ma devi essere... Ma come cavolo fa comunque a fare... Mi ha mancata l'unità. Ecco. Ecco. No. No. Ecco. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Non mi dire che prova di giocare con lo schermo rotto. Bocco l'idea. No. È impossibile. È troppo per lui. No, ci prova? Ci riprova? Cioè, l'idea c'è, l'intenzione c'è, ma purtroppo non può. Penso schermo è partito. Questo è uno zombie. Windows Vista. Stava giocando su Windows Vista. Beh, un po' penso sia vecchio il video. E niente, Pokémon, la ribida termina qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ringraziamo ancora nuovamente ReadyPixel per essere stato nostro ospite, sperando che il video sia piaciuto anche a lui. Devo dire qualcosa? Non lo so, quello che vuoi. Certo, certo che mi è piaciuto. Spero in futuro di comparire un'altra volta così, for fun, perché ci sta di brutto. Per noi sarà ancora più un onore averti nuovamente sul nostro canale. E adesso voglio farti una domanda. Quale reazione ti è rimasta più impressa? Quale sclero ti ha fatto ridere di più? Vabbè, per forza lo spaccamuri è stato qualcosa di inquietante, magico e spettacolare allo stesso tempo. Cioè, secondo me dovrebbe esserci un Guinness per queste cose. Dopo l'uovo foca lo spaccamuri. Lo spaccamuri. Io vi invito anche a seguirci su tutti gli altri nostri social, che trovate il link qui sotto in descrizione. Sperando che questo nuovo format, questa nuova strada che abbiamo intrapreso per il canale vi possa piacere, fatecelo sapere nei commenti, fateci sapere quale sclero vi è piaciuto di più. E noi ci rivediamo settimana prossima con la prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.